Saluto a tutti e bentornati a Fisicamente Aula Studio. Oggi con voi volevo commentare l'immagine che io ho visto per la prima volta stamattina su Astronomy Picture of the Day, ma che poi è rimbalzata attraverso diversi social in internet, ed è questa foto chiamata I colori della Luna. Questa è un'immagine meravigliosa, è un mosaico di diverse foto scattate alla Luna durante un arco di tempo che copre dieci anni addirittura, è fatta in tutti i posti, nella descrizione è scritto in Italia, quindi probabilmente non è un unico posto. Questa foto è stata fatta da Marcella Giulia Pace e nulla con voi, volevo andare a commentare queste immagini e vedere quindi cosa si può capire da questo mosaico di colori, di forme e via dicendo. Allora innanzitutto quello che vediamo è sempre la Luna piena, sta semplicemente fotografata in momenti diversi, quindi in tempi diversi, ma era sempre nella fase di Luna piena, ossia era dall'altra parte del Sole, la Terra era in mezzo, quindi possiamo immaginarci che il Sole, la Terra e la Luna erano tutti allineati e giacevano su una stessa retta ed è per questo che la Luna era piena, era completamente illuminata dai raggi del Sole. Quello che possiamo vedere innanzitutto è un cambiamento del colore, ci sono lune un po' più rosse, ci sono lune un po' più giallastre, ci sono lune grigiastre, lune blu e addirittura una luna viola. Allora diciamo innanzitutto che il colore dipende prevalentemente non dalla Luna stessa, ma dipende dall'atmosfera terrestre. Perché? Perché l'atmosfera terrestre è uno dei più grandi filtri che noi abbiamo davanti ai nostri occhi che cambiano un po' la percezione che noi abbiamo. Nella fattispecie il colore grigiastro-giallastro è il colore diciamo normale, quello che viene semplicemente dovuto alla luce giallastra che viene dal Sole, viene riflettuto dalla superficie della Luna e poi ritorna sulla superficie terrestre ed è quello che noi vediamo. Diciamo che questo è lo standard. Quando la Luna diventa un po' più rossiccia? Beh, noi siamo abituati a vedere le lune rosse quando stanno sorgendo o quando stanno per tramontare, quindi in ogni caso quando sono molto basse sull'orizzonte. Perché la Luna diventa rossa? Diventa rossa perché in aria, quindi nell'atmosfera sospesa in aria, ci sono un sacco di particelle che vanno a disperdere la luce, però non la disperdono in maniera uniforme tra le diverse frequenze, quindi tra i diversi colori. La luce blu nella fattispecie è quella che viene dispersa di più. Se la luce blu è quella che viene dispersa di più, quella che continua dritta nel suo viaggio è la luce rossa, che è proprio quella che noi vediamo quando la Luna è bassa sull'orizzonte e solo i fotoni della luce rossa raggiungono i nostri occhi. I fotoni della luce blu sono stati dispersi lungo la strada. Altre volte invece può essere che sospesi in atmosfera ci siano delle particelle relativamente grandi, non entriamo troppo nei dettagli, ma allora a questo punto cosa succede? Non è la luce blu a essere prevalentemente dispersa, ma è esattamente il contrario, è la luce rossa a essere prevalentemente dispersa, ed è per questo che a noi, a nostro occhio, arrivano delle tonalità più bluastre della Luna. Un caso particolare è poi questo viola, dove molto probabilmente ci sono diversi effetti che lavorano insieme e quindi alla fine quello che ci arriva è un sacco di luce blu, un sacco di luce rossastra, combinata, ci viene fuori una Luna che sembra tendere al viola. La cosa è ovviamente diversa per quest'ultima Luna qui, che è una Luna un po' particolare, perché sì, in fase di Luna piena, ma è durante un'eclissi lunare. Quindi, se noi fossimo sulla Luna non vedremmo il Sole, che ci illumina completamente, vedremmo dalla Luna un'eclissi di Sole, ma è la Terra che si sta mettendo tra noi e il Sole, e quindi ne vedremo solo un falcetto di luce solare. La Luna a questo punto diventa più rossastra, perché? Perché esattamente come abbiamo visto prima, che i raggi di luce che passano attraverso gli strati più densi dell'atmosfera quando la luce è bassa, la stessa cosa avviene anche quando la luce deve attraversare tutta l'atmosfera terrestre prima di raggiungere la Luna durante un'eclissi lunare. Quindi noi la vediamo rossastra, perché la luce che viene dal Sole passando attraverso l'atmosfera terrestre perde parte della sua luce più blu, rimane in vita solo la luce rossastra, che continua dritta per la sua strada e raggiunge alla fine la Luna. Un'altra cosa che possiamo notare è che ci sono dimensioni diverse della Luna. Alcune sembrano un po' più grandi, tipo questa per esempio, e altre sembrano più piccole. A occhio direi che questa è un attimino più piccola. Questo è un effetto ottico dovuto semplicemente al fatto che la distanza tra la Terra e la Luna non è fissa, non è costante, ma cambia. Questo avviene perché? Perché la Luna non gira intorno alla Terra in un'orbita circolare, quindi non è a forma di cerchio l'orbita della Luna, è a forma di ovale, è un cerchio un po' schiacciato. Tecnicamente quest'orbita si chiama ellisse, un'orbita ellittica, e questo fa sì che appunto la Luna ogni tanto sia un po' più lontana, ogni tanto sia un po' più vicina. È chiaro che quando siamo in Luna piena e la Luna è un po' più lontana del solito, allora la vedremo un po' più piccina, quando è un po' più vicina si vede quella che è chiamata una superluna, ossia è un po' più grande ma solo apparentemente, è il diametro che a noi sembra un po' più alto. Un'altra cosa molto interessante che possiamo vedere è la forma del bordo della Luna. Qua possiamo vedere come è perfettamente circolare, qua invece possiamo vedere chiaramente come è schiacciata, come è a forma di ovale. Perché avviene questo? Questo avviene prevalentemente, come potete vedere, quando la Luna è rossiccia, o comunque avviene quando la Luna è bassa sull'orizzonte. Questo effetto è dovuto a quello che è chiamato la rifrazione atmosferica, ossia i raggi di luce attraversando l'atmosfera terrestre non viaggiano in linea retta, ma vengono leggermente curvati. Questo avviene perché la densità dell'aria è più alta sulla superficie della Terra, ma man mano che ci alziamo dal suolo, la pressione, la temperatura, la densità diminuiscono e di conseguenza cambia anche una delle principali proprietà ottiche dell'aria, che è chiamato l'indice di rifrazione. Questo indice di rifrazione fa incurvare i raggi e nella fattispecie curva un po' di più i raggi nella parte bassa della Luna, piuttosto che i raggi nella parte alta della Luna, ed è per questo che la forma viene un po' distorta. Possiamo vedere addirittura i diversi strati dell'aria. Vedete come il bordo in alcuni casi è proprio frastagliato, quindi non è solo un appiattimento della Luna, ma possiamo vedere proprio diversi strati perché vedo diversi strati con diverse curvature. Tutti questi sono i diversi strati dell'aria che si possono alternare con caldo, freddo, più denso o meno denso, più umido o meno umido e via dicendo. E poi un'ultima osservazione che vorrei fare, ecco, si può vedere come ci sia quello che è chiamato il fenomeno di liberazione lunare, ossia la Luna ci mostra sempre la stessa faccia, quasi sempre. Quello che possiamo vedere, per esempio, questo spot, questa macchia più nera, chiamata Mare Crisium, ogni tanto è un po' più lontano dal bordo e ogni tanto è un po' più vicino, come in questo caso. Questo avviene perché la Luna, sì, ci mostra sempre la stessa faccia, ma in realtà oscilla più o meno come un pendolo intorno alla posizione media, ma in realtà la Luna ci mostra sempre leggermente qualcosa di più verso destra, qualcosa di più verso sinistra, quindi c'è una leggera oscillazione, questa è chiamata appunto la liberazione lunare che possiamo vedere mettendo a confronto tutte queste diverse foto fatte in tempi diversi. Benissimo, io spero che questo video vi sia piaciuto, se avete delle domande non esitate a lasciarmi un commento e poi vi farò un video per rispondervi in maniera dedicata. Grazie e alla prossima!